A seguito di previsioni meteorologiche a sei poco favorevoli per il fine settimana e per domenica in particolare, il comune di Prelà ha fatto sapere che la passeggiata enogastronomica in Valprino è stata rinviata al prossimo primo settembre. Il lungo rinvio si è reso necessario a causa della concomitanza dei fine settimana, sia con appuntamenti elettorali che con altri eventi in programma nella zona, che avrebbero fatto slittare l'appuntamento di Prelà in un periodo troppo caldo. Da qui la decisione di attendere la frescura settembrina per gustare i prodotti preparati dai tanti volontari del comune e frazioni di Prelà, dunque quest'anno bisognerà portare un po' di pazienza e aspettare appunto il primo di settembre.